Un saluto dal TG della mobilità oggi dalle 13 alle 15 in programma una manifestazione in via Molise davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy indetta da FIM, FIOM, CGL e WIM per evitare che l'azienda industria italiana Autobus chiuda. All'iniziativa è prevista la partecipazione di 100 persone, previsti divieti di sosta. E proseguono intanto i lavori sulla ferrovia a metro mare per il rifacimento della linea aerea con la sostituzione completa dei palli di sostegno e dei fili di contatto. I lavori si svolgono in orario serale e notturno. Si rende quindi necessaria la chiusura anticipata del servizio, in particolare l'ultima corsa della ferrovia. Dal lunedì al venerdì parte da entrambi i cavolini a Di Colombo e Porta San Paolo alle 21, mentre il sabato e la domenica l'ultima partenza dei treni viene svolta regolarmente alle 23.30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.